L'Oscar va a... In cui i film praticamente escono ovviamente settimane e mesi dopo l'uscita ufficiale negli Stati Uniti e che alcuni candidati agli Oscar li ho visti, ho visto Joker, ho visto 1917, ho visto Piccole Donne, però altri film che sono nominati agli Oscar, per esempio Bombshell, qui sono candidati sia Charlize Theron che Margot Robbie, c'è il film uscirà a marzo, quindi ve lo giuro mi irrita in una maniera assurda perché io amo Margot Robbie E ci sono non solo delle categorie fotoniche ma ci sono degli attori candidati che io, cioè, se sono stragasato non vedo l'ora Adesso è mezzanotte meno 20 e gli Oscar ufficiali iniziano alle 2 di notte, which is awesome Però ovviamente a me piace vedere tutto il red carpet, ho visto tra l'altro che su Instagram stanno già iniziando ad arrivare le prime celebrities sul red carpet, ovviamente voglio vedere tutti gli outfit eccetera eccetera Quello che guarderò adesso è il canale 303, Sky Cinema Oscar, che ci sono diciamo gli italiani che commentano, non è il mio proprio preferito Perché ci sono anche delle dirette su YouTube, però non mi fido perché sono un po' strane, secondo me finiranno alle 4 di notte, non lo so, la vedo molto male Procediamo su canale 303 Sono stragasata E possiamo parlare del fatto che Billie Eilish che ha 18 anni farà una performance agli Oscar e ha 18 anni questa Cioè io ne ho 22, sono qua in pigiama Ho visto da poco 1917 e non vedo l'ora, cioè io tifo anche per tutti i ragazzi che hanno, per gli attori di 1917 o comunque per il film perché mi è piaciuto tantissimo Sono gasatissima per l'arrivo di Margot Robbie e soprattutto non vedo l'ora che arrivi tutto il cast di piccole donne Tutti gli attori più famosi stra-vip arrivano sempre alla fine Cioè pensate anche che bello essere tipo un inviato sul red carpet, intervistare tutti gli attori Cioè wow Che poi è una delle cose che adoro di tutte le attrici femmine soprattutto perché vabbè anche i maschi hanno le loro pose sul red carpet Però specialmente le lovely ladies, cioè vedi le donne che arrivano che sanno già la loro posa Sono appena arrivati gli attori principali di 1917 Io George McKay Spero di pronunciarlo bene Di 1917 Proprio fico E' appena arrivata Billie Cioè capite che Billie Eilish ha 18 anni ed è lì sul red carpet con un vestito customized da Chanel Ok Io ho sempre la stessa felpa Comprata a 12 dollari ma ok Ok raga questa ve la devo raccontare È appena arrivata lei Che si chiama Robin Roberts E fa la presentatrice di Good Morning America La cosa strana è che l'ho vista alla partita dell'NBA quando era a New York Io Renee l'amo Allora lei è nominata per Judy E non ho ancora visto questo film ma non vedo l'ora di vederlo Tesorina Mi sembra così carina Ok è appena arrivato Brad Pitt Ed è anche arrivata Brie Larson Che tantissimi di voi mi dicono che ha subito a lei Che è l'attrice che fa Captain Marvel Oddio non l'ho spettato Io l'amo Poi non vedo l'ora di vedere il nuovo di Harley Quinn Che ovviamente in Italia deve ancora uscire Wow sta benissimo Kristen Wiig Lei è una delle mie comiche preferite Finalmente ci stanno facendo vedere che stanno tutti entrando Perché non ce la posso fare È arrivato Comunque quest'ultima ondata di Hattori è stata fotonica Che figo Ok raga mi sto emozionando Stanno entrando tutti dentro al teatro Comunque aggiornamento sono le due meno un quarto Iniziano iniziano Let's go La prima fila c'è Brad Pitt Penelope Cruz Sono Tom Hanks Charlize Theron Margot Robbie Bradley Cooper C'è cantare da davanti con tutti Leonardo DiCaprio appena cantato Oddio l'ha dedicato ai suoi bimbi Oddio raga hanno appena annunciato che ci sarà la performance di Frozen 2 Condiviso su Instagram questa mia ossessione ultimamente che è da due settimane che non smetto di ascoltare Into the Unknown Io sto impazzendo C'è una performance globale di tutte Into the Unknown fatta in un sacco di lingue diverse Ma c'è anche la nostra italiana Mi sto commuovendo Se solo non fossero le due e mezza di notte urlerei come una pazza Brave Ma che cos'è questo ragazzo? Ok raga sono le tre di notte E tutto va bene Adesso hanno appena detto e hanno appena annunciato che La prossima nomination sarà quella delle best Non so se supporting actress o actress Non vedo l'ora C'è sempre in American Horror Story Bye Laura Bravo la zia 24 anni questa L'ho vista anche in Big Little Lies E ha fatto un botto di film sta donna Ok raga sono le 4 e un quarto E il film è uno dei miei prefe 1917 Ha vinto L'Oscar per i migliori effetti speciali Sono morta E deve ancora esibirsi Billie Eilish Devono ancora nominare l'Oscar per il miglior attore protagonista E miglior attrice protagonista Sono le 5 meno un quarto Raga mi sto addormentando C'è le 5 meno un quarto Best director Hai capito? I coreani si portano tre Oscar a casa Tanta roba Che soddisfazione Sono tutti in piedi Non vi faccio vedere Perché non ho la forza di girare la telecamera Che voce che ha Billie Ok raga ci siamo Oddio che sonno Io prego per Leo Anche se So che è restato sulla bocca di troppi per non vincere Mi dispiace per Leo Charlize Theron Wow Sono in una posizione così scomoda Perché sono tutte così brave René Mamma mia Oddio No sono stracontenta ve lo giuro Sono proprio contenta per René Oddio In tutto ciò sono le 5 e mezza Io guardo questo che tanto è l'ultimo Stavo per andare a letto prima Cioè Se una cosa si fa Se fa bene Quindi dall'inizio alla fine Raga Ha vinto un'altra volta Parasite Grandi Ok raga sono completamente sotto le coperte Perché cioè non ce la posso fare Dopo le 4 la situazione è stata tragica Non avevo mai visto gli Oscar dall'inizio alla fine E devo dire che mi è piaciuto molto Proprio anche programma televisivo Come l'hanno strutturato Cioè vedere l'inizio Tutti gli attori che arrivano I loro vestiti Come le interviste che fanno Prima della cerimonia Mi è piaciuto tantissimo Mi sono piaciuti Veramente anche tutti gli spezzoni In cui sono entrati i comici C'è stato il pezzo della mia preferita Che è una delle mie comiche preferite Che si chiama Kristen Wiig Che fa Saturday Night Live SNL E mi sono piaciute tantissimo Sono stracontenta con tutti i vincitori Tutto proprio il gruppo coreano Cioè hanno proprio vinto di tutte Sono stracontenta Perché c'è che abbia vinto un paese Che non siano gli Stati Uniti Tutte le canzoni Raga grazie Non mi sono sentita da sola Perché condividevo tutto su Instagram E vedevo che anche alcuni di voi Erano svegli dall'Italia A guardare gli Oscar È una cosa che probabilmente rifarò Però la voglio organizzare bene Magari il prossimo anno Organizzerò proprio uno slipover Per vedere la nottata in compagnia Io vi saluto Grazie per essere stati con me Vi mando un bacio dal mio bellissimo letto Ditemi se siete contenti anche voi Dei vincitori Se vi è piaciuto Se vi sono piaciuti gli Oscar Come se ve la siete spassata Io ho già la voce proprio da notte Quindi passo e chiudo E vi saluto con un Thank you guys for watching And see you guys next time I love you Bye Ciao 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 Ciao